con home and my world is full of love si giunge la conclusione di questo doppio album consapevoli che qualsiasi viaggio volge al termine ma non senza aver imparato qualcosa ad esempio che la creatività può renderci liberi anche durante un lockdown o che possiamo ritrovarci imprigionati in un mondo libero annegando nella sua finzione e nella sua plastica forse l'unica consapevolezza maturata alla fine di questo lungo viaggio è che la libertà non significa niente 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 senza l'amore l'amore l'unica forza in grado di riportarci sempre a casa l'amore in quella piccola casa nella prateria nascosta ma sempre viva nella nostra anima la libertà è nulla senza l'amore e l'amore è il loroяют Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti